Filippo, solo qualche brivido ad inizio secondo tempo, la parata sul colpo di testa ravvicinato, il diagonale, però possiamo dire che la buona notizia per un portiere è quando va a casa senza dover contare i gol che ha subito. Sì, sicuramente sapevamo che sarebbe stata una partita comunque complicata, a maggior ragione dopo, a inizio secondo tempo, dove eravamo già sopra 2-0 e sicuramente loro i primi minuti sapevamo che avrebbero spinto, però siamo stati bravi a tenere botta bene di squadra, a lavorare bene di reparti, di insieme, e abbiamo portato a casa una vittoria che è importantissima. E con Taramo che è ripartito quindi con il piede giusto e anche sotto l'aspetto difensivo sembra ora una difesa più compatta, con gli innesti di Codro, Mazze e Pinto, dall'inizio ti senti più tranquillo, più sicuro ora? No, ma come ho detto prima, si è stati bravi, ma oltre che a livello difensivo, ma si è stati bravi a partire dagli attaccanti che li sporcavano le giocate, i centrocampisti, i difensori, si è stati bravi di insieme. È stata una partita interpretata bene, adesso che mi dicevi a livello difensivo, ma da tutta la squadra, perché comunque la difesa quando è supportata bene da centrocampo, da attaccanti, sicuramente lavora molto meglio. Abbiamo fatto una partita solida, con un campo comunque difficile, un campo pesante, contro una squadra che comunque ha la caratteristica di mettere tanti palloni in mezzo e l'abbiamo gestita bene. Filippo, su quel diagonale e la tua parata, forse il brivido più grande della partita, un piccolo problemino, che cosa era successo? Poi abbiamo visto che hai fatto segno tutto ok. Sì, è successo prima, su una palla tagliata che poi è passata, è arrivato in scivolata, credo, adesso non mi ricordo, un giocatore loro, ha preso col ginocchio, ma niente di che, una botta, come ne capitano tante nel calcio. La strada verso la salvezza è ancora lunga, è ripartita con il piede giusto, ma voglio dirti, la società vi ha dato ora le giuste garanzie e anche più tranquillità, ma questo è importante per una squadra? La società ci è sempre stata vicino, ci è sempre stata vicino anche dopo le sconfitte, sono sempre comunque tutti i giorni per rendimento al campo, sono sempre con noi. Come hai detto te, siamo ripartiti col piede giusto, adesso dobbiamo essere bravi a mantenere questo trend. Questa è una vittoria anche che ripaga di qualche sconfitta di troppo e forse la serata di Reggio Emilia è quella che ti porti dietro come la più brutta dell'annata scorsa? Sai, è la serata di Reggio Emilia, ci è capitato nell'ultimo periodo di prendere un po' troppi gol. Poi dopo sai, quando perdi 5-0 c'hai una mano in bocca che ti dura per tanto. Siamo stati bravi oggi, come eravamo stati bravi anche in altre partite, come mi ricordo da quando sono arrivato io a Ponte d'Era, Pescara. Comunque, adesso come ho detto prima, la strada è quella, bisogna essere bravi e affamati di voler continuare a andare ancora di più, ancora di più, ancora di più, perché abbiamo dimostrato, come già avevamo fatto in passato, di averla nelle nostre corde. Vogliamo sottolineare alla fine l'abbraccio con i tifosi perché questa è la cosa anche bella, no? Certo, assolutamente. Sono sempre stati vicini, sono sempre venuti, si sono fatte delle trasferte lunghissime, quindi sai, quando si vince è una cosa bellissima poter esultare con i propri tifosi, soprattutto anche dopo il fatto che si è giocato quasi per un anno e mezzo senza, quindi fa ancora più piacere, siamo contenti per loro che si sono fatti questi chilometri ancora una volta e siamo contenti di aver dato una gioia anche a loro.